Ci sono in Italia 7 milioni di cittadini che si sono indebitati per potersi permettere le cure sanitarie. Questo è un problema grossissimo, è un tema che noi poniamo alla nuova Ministra Grillo. Esiteremo a brevissimo una nota congiunta con CGL e Will e su questa nota chiederemo un incontro affinché il tema del costo della sanità e soprattutto della garanzia dei LEA sia messo al centro della riflessione sociale di questo Paese. Il bilancio dello Stato vede una quota di risorse non sufficiente per rispondere ai livelli essenziali di assistenza. 116 miliardi su quasi 600 miliardi sono appena il 20% sulle politiche della salute per cui non è vero che questa sanità italiana è un molo che mangia soldi o un'entità inanimata. È un soggetto che deve poter contribuire a costruire quota a parte del prodotto interno lordo. La sanità piuttosto va considerata maggiormente come investimento piuttosto che come costo. Ecco che allora dobbiamo creare le condizioni perché ci sia una sanità il più possibile uniforme in questo Paese tra nord e sud. È urgente aprire un tavolo sul tema sanitario che anche per il sindacato deve ritornare ad essere un tema centrale, fondamentale. È un diritto di cittadinanza fondamentale, interessa troppi cittadini, ma soprattutto il dato censir ci dice che l'equivalente di una tredicesima mensilità per cittadino italiano è stato speso per sostenere cure aggiuntive non coperte dal servizio sanitario pubblico. È un problema grave e preoccupante su cui dobbiamo immediatamente intervenire.